Musica Open Lab all'istituto Marconi di Campobasso, porte aperte nei tanti laboratori della scuola per far toccare con mano la teoria che diventa pratica. Allora, cari amici di Viaggi in Molise, rimanete con noi per scoprire questo viaggio fatto di competenze, abilità e tanta tecnologia. Adelaide Villa, dirigente scolastico dell'istituto Guglielmo Marconi di Campobasso Open Lab, un momento dedicato alla teoria che diventa pratica, nel vero senso della parola. Gli studenti, in procinto di iscriversi a questa scuola, possono davvero toccare con mano ciò che impareranno a fare? Sì, questo qui è proprio l'obiettivo. I ragazzi che domenica scorsa hanno visitato, hanno visto fare, adesso mettono le mani in pasta. Perché è importante, secondo noi, che loro misurino, insomma, anche le loro preferenze, le loro inclinazioni per capire se effettivamente questa scuola è fatta per loro, insomma, perché è una scelta importante in questa fase. Tanti laboratori, oltre 30, che danno le basi solide per una formazione all'avanguardia. Anche questo è il nostro obiettivo, la nostra speranza. Il fatto che questa scuola consenta agli studenti di modificare, di cambiare proprio la concezione didattica e quindi passare da una didattica passiva in cui lo studente seduto e il docente sciorina nozioni di ogni genere a una didattica attiva in cui lo studente prova, diciamo, fa un progetto, poi lo realizza e attraverso un metodo sperimentale per prove ed errori verifica, corregge, modifica per arrivare al risultato finale. È quello proprio che abbiamo visto poco fa realizzato, insomma, nel progetto della bobina di Tesla, ma in tutti i progetti che si attuano nei laboratori di questa scuola. Una didattica così, una didattica laboratoriale è anche la chiave del successo per garantire, per fornire all'alunno anche una buona preparazione per una pronta emissione nel mondo del lavoro. Sì, noi cerchiamo appunto di creare degli studenti competenti che sappiano, che abbiano anche le caratteristiche di flessibilità per potersi adeguare al mondo del lavoro, che è in continua evoluzione e che richiede, insomma, degli apporti sempre più specifici. Io leggevo stamattina, c'è un articolo su Repubblica che parla dell'allarme, dell'emergenza che c'è al nord di procurare, quindi di offrire lavoro nelle fabbriche ai tecnici e agli operai specializzati. Diciamo che l'obiettivo di questa scuola è proprio quello di costruire per i nostri studenti una formazione che fornisca basi solide su tutte le innovazioni, tutte le evoluzioni che ci sono attualmente nel mondo dell'industria e nel mondo del lavoro in generale. Annalisa Gatti, docenti di elettronica, oggi è una giornata dedicata ai laboratori. Gli alunni che intendono appunto iscriversi alle scuole superiori, in questo caso all'Istituto Marco di Campobasso, toccano con mano l'attività pratica che l'Istituto propone. Che laboratorio è questo? Allora, questo è il laboratorio di robotica educativa, quindi cominciamo a capire un po' che cos'è un robot, come si gestisce un sistema robotico, quindi quali sono le parti fondamentali che lo compongono, qual è la logica che è necessario utilizzare per istruire o far fare a un robot, quindi a un'automa, a una macchina, a un qualche cosa, come lo si desidera. Quindi diciamo le basi, ecco. Con cosa familiarizzano i ragazzi? Vediamo i primi robot, vediamo l'elettronica, computer? Sì, allora qua nello specifico stiamo lavorando con dei Lego Mindstorm, quindi sono dei diciamo robot giocattoli, però hanno un contenuto tecnologico ed educativo abbastanza avanzato e vengono comandati direttamente tramite tablet, quindi via bluetooth e diciamo è molto facile l'approccio per cui sono adatti all'età di ragazzi che ancora insomma non hanno cognizioni, non hanno competenze in campo di elettronica, però già si riescono a vedere i risultati e questo li spinge, li stimola a cercare di fare sempre meglio e di migliorarsi sempre di più imparando dagli errori che vedono sul loro robottino. Alessandro, siamo in uno dei laboratori di informatica della scuola, cosa state facendo vedere ai visitatori? In questo caso, in questo laboratorio ci stiamo focalizzando nella presentazione di un progetto che abbiamo realizzato noi stessi e che la scuola appunto ci ha messo a disposizione. Adesso stiamo presentando un prototipo di una cover smart innovativa e grazie a un'applicazione che abbiamo sviluppato noi stessi possiamo riuscire a evitare delle situazioni di pericolo, quindi in questo caso abbiamo fatto, grazie a una scheda Arduino, abbiamo scritto tutto un codice sia comunque dal punto di vista hardware che dal punto di vista software. Cosa fa? Quindi ci troviamo in pericolo, stringiamo il telefono, la cover e parte un messaggio d'aiuto che può essere programmato dalla stessa applicazione che abbiamo realizzato. Un indirizzo, quello di informatica, al passo con i tempi, all'avanguardia che vi prepara davvero a rispondere alle esigenze del mercato ma della stessa quotidianità. Esattamente, è una scuola che ci mette veramente tutto disponibile, anzi all'avanguardia, che punta alle nuove tecnologie, punta all'innovazione e soprattutto ci consente di approcciare il mondo del lavoro in una maniera insomma molto positiva e all'avanguardia. Antonello Venditti, docente di informatica, un altro laboratorio aperto per mostrare cosa? Allora, mostriamo ai ragazzi come si fa un'app per il telefonino. Si realizza con un ambiente molto semplice che è App Inventor e lo mostriamo sia ai ragazzi che vengono a vedere la nostra scuola in questi giorni di apertura che durante le lezioni. loro in questa maniera imparano, utilizzando il mouse in maniera molto semplice, a creare un'app per il telefonino e capiscono quali sono le potenzialità che l'indirizzo informatica riserva ai ragazzi che dovranno entrare nel nostro mondo del lavoro. Siamo con il professor Pinuccio Varanese, docente di sistemi. Un laboratorio particolare, visitatissimo come possiamo vedere. A cosa approcciano i ragazzi? I ragazzi approcciano a che cosa? A quella che potremmo definire l'automazione industriale, tutti i sistemi di controllo. In buona sostanza imparano a imparare in C, in linguaggi ladder e altri linguaggi di programmazione. Sempre volto a quello che trovano nelle aziende, tipo la Fiat o altra tipologia. Imbaracano le macchine a controllo numerico, che ormai diciamo che le troviamo un po' dappertutto, anche nelle piccolissime aziende. Insomma, lavorano molto 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 con l'informatica industriale, almeno in questo reparto qui, in sistemi automatici. Qui un po' tutta l'area appunto dove l'elettronica, l'elettrotecnica, la meccanica, insomma si esperisce, si studiano, si vivono queste materie in questi spazi. I laboratori rappresentano il cuore pulsante della formazione dei vostri diplomati. Sì, diciamo che un po' tutto il nostro istituto va verso questa direzione qui, si approccia qui, anche facendo le debite di distinzione fra noi, la meccanica, diciamo, si differenziano un po' le varie discipline, diciamo così. Grazie a tutti.